Ciao ragazzi, video di Fortnite, andiamo a fare l'incarico epico, ricevi la guarigione passiva con il dominio dell'acqua entrando nell'acqua I templi dell'acqua sono uno qua, uno qua, quindi se non li trovate, li guardate così, andiamo a vedere quello lì Andiamo a vedere soprattutto se è vera sta roba, che me la sono inventata adesso Però uscendo il punto isclamativo, aprendo la mappa e la missione contemporaneamente, insomma dovrebbe essere reale Intanto che atterriamo, come al solito, un bel leccozzo per supportare il canale, il codice creatore vander per tutti i noti creepy Sempre attivo, se lo usate taggatemi sui social che trovate in descrizione perché vi dà la possibilità di vincere skin, pass battaglia, gift card, quello che volete Durante i contest e le lotterie, se invece vi va di venire a giocare perché non riuscite a fare una missione o volete semplicemente passare a fare un saluto Tutti i giorni seguo in live sul canale Viola o su Youtube, dalle 3 di pomeriggio, la domenica tutto il giorno, quindi qualsiasi orario Se non andate a scuola, non ci va nessuno il domenico, se non andate a scuola potete venire a salutare E intanto non so più cosa dire, stiamo atterrando però E vediamoci se avevamo ragione Ok, dovrebbe essere un tempio dell'acqua, un po' innevato però è un tempio dell'acqua Allora praticamente la missione consiste nel equipaggiare il potere dell'acqua e buttarsi in acqua senza vita o comunque con poca vita Perché questo potere qua quando sei in acqua ti cura un pochino Ora vediamo subito di fare questa missione Con questo potere si va in acqua e dobbiamo curarci di 25, quindi praticamente è immediata Eccola qua, sbloccata, la galla è cozzo, mi raccomando Per supportare il canale se non l'avete messo subito, lo so che lo dico ogni volta però è importantissimo Ciao